Grazie, quindi io mi chiamo Vulla Cezzi, sono la segretaria generale del gruppo dei Verdi da parecchi anni, ho studiato in Italia, per questo parlo italiano, e sono di origine greca. Allora, grazie Monica. Vorrei dire che, diciamo, qualche elemento rispetto al gruppo, al Parlamento Europeo. Noi abbiamo dei deputati che rappresentano circa il 7%, e come è stato indicato prima abbiamo un impatto molto più grande. E questo non è casuale. Secondo me il gruppo da parecchi anni, e parlo adesso di più di vent'anni, ha avuto una coerenza su tante politiche che è rimasta quella tale senza veramente cercare di correre indietro a coalizioni di convegno, a coalizioni di potere, a coalizioni senza un progetto politico, perché devo dirvi che rispetto agli altri partiti tradizionali, quello che è successo, quello che succede ogni giorno, è che noi veramente non andiamo in ricerca di sedie e di potere puro. Noi vogliamo dei risultati. Quando io parlo con gli altri gruppi politici, molto spesso quello che si chiede è, ma Vulla, che cosa volete di concreto? E noi rispondiamo, vogliamo fatti, vogliamo cambiare l'Europa, vogliamo e sappiamo che abbiamo bisogno di più di Europa, però sappiamo anche che abbiamo bisogno di un altro modello di sviluppo, perché quello che abbiamo davanti e quello che abbiamo avuto per tanti anni è uno sviluppo che ci ha portato in tanta povertà, è veramente in promuovere i grandi poteri, grandi lobby, multinazionali e noi vogliamo una giustizia sociale, una giustizia sulle tasse, una giustizia sull'alimentazione, una giustizia climatica, una giustizia per quanto riguarda il futuro dei giovani. E quello lo dico perché, voglio dire, non posso fare astrazione del fatto che sono greca, un paese che ha passato e sta continuando a passare veramente tantissimi problemi, dove la gente esce dal paese, dove c'è molta povertà e dove c'è veramente pochissima speranza. Quindi perché il gruppo è riuscito veramente ad avere questo successo? Prima di tutto perché abbiamo potuto mettere insieme che l'ecologia e la sostenibilità non è semplicemente parlare degli alberi oppure solamente dell'aria, è la questione della giustizia sociale, perché, voglio dire, non si può in nostri giorni non parlare di quello che riguarda equal opportunities per tutti quanti, oppure per la povertà. Non possiamo non parlare della giustizia delle tasse, perché tutta la questione per chi paga su che cosa, che è stato ben sviluppato all'inizio, non è casuale. Le multinazionali siamo noi che li stiamo combattendo. Senza di noi non avremmo avuto il progresso che abbiamo avuto finora. I lobby sono estremamente penetrati nei gruppi politici e nelle istituzioni. E io sono molto fiera che grazie al nostro gruppo, vi voglio dare due o tre esempi, non solamente abbiamo potuto fare delle commissioni speciali su tutto quello che riguarda il Lux Leaks, il Panama Papers e tutto quello che riguarda la giustizia sociale e tutto quello che riguarda cosa fare per combattere l'evasione fiscale e i paradisi fiscali. Siamo stati noi che abbiamo potuto, grazie alla pressione fuori, e questo bisogna dire perché queste cose non capitano mai con un 7%, bisogna avere la pressione da fuori, la pressione della strada oppure la pressione dei giornalisti. Abbiamo potuto fare una commissione speciale sul Dieselgate, perché il Dieselgate, permettetemi di dire, è una grande porcheria, ancora scusatemi per il termine, perché lì proprio è la concentrazione del potere di tutte le compagnie automobilistiche dove praticamente volevano dare delle informazioni sbagliate per quanto riguarda le conseguenze delle emissioni del CO2 e per quanto riguarda nel settore automobilistico. Quindi è stato veramente un grandissimo scandalo e indietro sono le grandi multinazionali e degli interessi automobilistici in tutta l'Europa, in tutto il mondo, dove praticamente non hanno voluto parlare della salute, di quello che vedo a Milano con l'aria che si respira, perché devo dire è una cosa drammatica, allora dove praticamente hanno voluto promuovere il profitto al scapito di quello che riguarda i cittadini e anche la salute e anche l'ambiente. Noi siamo il gruppo che grazie alla nostra insistenza abbiamo potuto mettere al posto una commissione speciale sui pesticidi. I pesticidi per poter veramente regolamentare tutto quello che riguarda l'autorizzazione, riguarda i pesticidi, che deve essere assolutamente regolamentata, controllata perché è una questione di salute assoluta. Questi tre esempi, io vi dico che senza di noi, non avrebbero avuto luogo e questo grazie alla dimensione e alla pressione da fuori, però anche grazie a un'intelligenza interna, rispetto ai nostri deputati e anche ai nostri collaboratori, per poter dividere gli altri gruppi politici, esporre gli altri gruppi politici, fare la battaglia, perché ci sono dei momenti dove non si può dire tutti ci amiamo perché amiamo l'Europa, non è così. La battaglia per le prossime europee sarà, sì, vogliamo essere pro-europei, però che tipo di Europa vogliamo? Che tipo di modello di sviluppo vogliamo? Io vorrei riprendere quello che Marco ha detto prima, perché era molto interessante, abbiamo voluto avere Greta al Parlamento europeo, non l'abbiamo potuto avere, a causa del fatto che i liberali, tutta la destra non la voleva, non vi preoccupate perché l'avremo, ne sono sicura, e guardate il 5 di aprile cosa succederà al Parlamento europeo, quindi insomma io spero veramente che con la nostra insistenza ci riusciremo, non perché Greta è Greta, ma perché Greta rappresenta questa giovane donna dove ha detto in un'intervista due giorni fa una cosa bellissima, gli hanno chiesto ma di cosa ha paura? E chi è il politico veramente più cattivo? E lei ha detto chiaramente Trump, però quello che mi preoccupa di più non è Trump, quello che mi preoccupa di più sono tutti quelli politici che parlano di cambiamenti climatici e de facto non fanno niente, e quindi questo deve essere cambiato. Allora, chiudo la parentesi per tornare sui giovani. Quello che ho detto a Marco era interessante. Loro sono venuti con tanta prudenza al Parlamento europeo, la settimana scorsa, martedì scorso. Erano da 22 paesi, 60 persone, non volendo essere visti veramente accaparati dalla politica, e io li capisco perché loro devono fare il loro lavoro e loro devono lasciarci a fare il nostro lavoro e sarebbe stato un errore cercare di accapararli politicamente. Detto questo, e questo è stato rispettato, la questione di cosa succederà nelle prossime elezioni europee se veramente in tutti i paesi non avremo una rappresentazione verde con tutto il rispetto va messa sul tavolo. Perché, voglio dire, non dobbiamo essere completamente naif. Noi abbiamo un gruppo al Parlamento europeo con un'ottima rappresentazione del nord, dei tedeschi, degli olandesi, dei belgi, dei francesi, dei nordici, però abbiamo anche un'antica geopolitico che è quello che è del sud incluso anche del mio paese e quello dei paesi dell'est. E allora, se uno si chiede cosa si può fare, allora io veramente la risposta con tutto il rispetto non ce l'ho, perché la risposta non può venire da sopra, dall'Europa, da Bruxelles. La risposta può venire solo da voi e da quelle forze che esistono già e che devono veramente poter attrare nuove persone e io sono veramente molto convincente che le cose funzioneranno perché vedendo il panorama politico italiano posso solo piangere perché veramente è drammatico, è drammatico e perché i cittadini italiani hanno bisogno di qualcosa di diverso ma non solo i cittadini italiani ma anche i cittadini europei perché l'Italia è un paese fondatore, è un paese che conta e che non possiamo più vedere che Salvini con la sua agenda proprio di unire l'estrema destra e i fascisti in Europa per poter bloccare il Parlamento e anche la costruzione europea che è utilizzato dall'altra parte da un uomo brillante bisogna riconoscerlo l'unico politico veramente a quel livello che sta cercando di parlare d'Europa Macron però Macron utilizza la dimensione pro-europea per dire o votate per Salvini o votate per me perché io considero che questo è veramente un errore perché la gente su questa dicotomia non si muoverà per elezioni europee perché la gente che ha amato l'Europa non la ama più non la ama più perché l'Europa non ha dato le risposte che doveva dare su alcuni temi di tutti i giorni però sappiamo benissimo che senza l'Europa le cose non possono andare avanti quindi è l'unica strada è one way to go però bisogna creare quella dinamica è quella propria responsabilità di andare con il vostro voto e tutti i voti degli europei per poter praticamente creare una dinamica che andrà nella buona direzione al nuovo Parlamento perché non vi nascondo io non sono sagittario sono gemelli forse un po' un po' più voglio dire prudente di carattere però bisogna ne abbiamo bisogno della gente dell'Italia della Grecia della Spagna del Sud per poter veramente avanzare questo bellissimo progetto europeo non può l'ecologia non può essere l'ecologia non può essere lasciata solamente ai paesi del nord e io ringrazio veramente questi paesi del nord di quali siamo così veramente fieri quanto noi abbiamo in Olanda un successo tale quanto noi abbiamo in Belgio un successo tale quando noi abbiamo in Germania un successo tale veramente bisogna riconoscerlo e essere estremamente grati per questo però questo crea anche una responsabilità a tutti noi del sud di poter veramente sviluppare questa onda verde di poter convincere queste persone che noi possiamo rappresentare un'altra visione un altro tipo di sviluppo però per finire questo chiaramente non lo possiamo fare voi in Italia noi in Grecia quelli in Spagna senza delle persone dinamiche e senza delle persone nuove e senza delle persone giovani e senza delle persone veramente dove possono portare questa energia nella struttura e nei partiti esistenti perché ci sono e quindi io spero veramente di potervi tutti noi aiutarvi però tutto il lavoro è nelle vostre mani e noi possiamo accompagnarvi servete visione grazie grazie